è di giulio camarlinghi la rete che rimette momentaneamente in parità i giochi dopo poco dopo la mezz'ora del primo tempo un pareggio in quel momento più che meritato la proliferazione sorgente arrivato a questo appuntamento con un rimini squadra appunto di grande blasone probabilmente non al massimo delle proprie energie resta alla fine il rammarico di una gara di una sconfitta che brucia qual è il tuo giudizio su questa prova tanto buonasera a tutti è stato un primo tempo combattuto loro grande squadra giocavano bene noi pure secondo tempo ci sono stati molti errori tecnici loro purtroppo in due episodi hanno avuto da meglio noi abbiamo avuto un episodio a favore purtroppo abbiamo sbagliato alla fine loro hanno portato a casa i tre punti tanto rammarico però si va avanti certo bisogna appunto andare avanti con la consapevolezza di aver fatto finora un cammino importante giulio anche dal punto di vista personale una crescita costante che bilancio possiamo fare finora di questa stagione ma questa stagione sta procedendo benissimo la squadra gioca bene in tutti i campi tutti ci prendono un po sotto gamba e noi ogni partita facciamo parlare di noi in tutti i campi quindi noi siamo forti lo dimostriamo personalmente è una crescita positiva sono contento ma soprattutto sono contento del gruppo perché è uno spettacolo vederci giocare c'è qualcosa da rimproverarmi dal tuo punto di vista per questa prestazione oppure si va avanti ma l'unica cosa troppi errori tecnici il secondo tempo si poteva affrontare meglio il secondo tempo era era 1 a 1 e si doveva fare di più purtroppo anche l'episodio come già detto non ci sono non ci hanno aiutato dopo quattro gare in undici giorni c'è bisogno di ricaricare l'energia adesso sfrutterete questa pausa per poi farvi trovare pronti all'inizio del nuovo anno il primo impegno un'altra trasferta contro il mezzolara un altro avversario tosto si ora iniziano le vacanze sempre con la testa non bisogna esagerare perché il 27 si torna allenarci ci aspetta il 6 una trasferta importante dove bisogna vincere assolutamente e vediamo come va ringraziamo giulio bocca al lupo buoni feste a a a